Il giornalino di Gian Burrasca. 6 febbraio. È vicina la sveglia, giornalino mio, e io ho molti fatti da registrare. Prima di tutto una lieta notizia. I convittori del collegio Pierpaoli non mangeranno più minestra di riso per un pezzo. Iersera, quando tutti dormivano, io che stavo sull'attenti sentì nella porta del dormitorio un lieve sgretolio a più riprese, come quello di untarlo. Era il segnale convenuto. Il Michelozzi raschiava la porta con l'unghia per avvertirmi di portar fuori il bottiglione pieno di petroglio, ciò che io feci in un batter d'occhio. Egli lo prese e porgendomi la mano mi sussurrò in un orecchio. Vieni dietro di me, rasento il muro. Che palpiti nell'avventurarsi così nel buio dei corridoi, fermandosi in ascolto ogni più lieve rumore, trattenendo il respiro. A un certo punto, sboccando da un corridoio stretto stretto, la scena fu rischiarata da una finestra, le cui imposte erano aperte, e ci fermammo dinnanzi a una porticina nascosta nel muro. Il magazzino, mormorò Michelozzi, prendi questa chiave, è quella del gabinetto di fisica e apre benissimo anche questa porta. Fa piano. Presi la chiave, la introdussi pian piano e la girai nella serratura da gino a da gino. La porticina si aprì ed entrammo. Il magazzino era fiocamente illuminato dal chiarore che veniva da un finestrino aperto sulla parete di faccia alla porta, in alto, e a quella luce incerta, vedemmo da un lato una fila di balle aperte, con della roba bianca. Vi misi le mani. Era il riso, quell'odiato riso che nel collegio Pierpaoli ci era servito a tutti i pasti, tutti i giorni, meno il venerdì e la domenica. Aiutami, mormorò il Michelozzi. Lo aiutai ad alzare il bottiglione, e giù, innaffiamo ben bene le balle col petroglio. Ecco fatto, aggiunse il mio compagno posando il bottiglione in terra e incamminandosi verso l'uscita, e ora, quella bella provvista di riso, possono farsela fritta. Io non risposi. Avevo addocchiato un sacco di fichi secchi e me ne ero empite le tasche e la bocca. Dopo aver richiuso la porticina, tornammo cautamente per la strada già fatta e ci separammo dinnanzi al mio dormitorio. Tutto è andato bene, disse a bassa voce al Michelozzi, e abbiamo reso un grande servizio a tutti i nostri compagni. Ora vuoi riportare la chiave del gabinetto di fisica al suo posto e poi a letto. Uno per tutti, tutti per uno, e ci stringemmo la mano. Io zitto zitto andai a letto, ma ero così commosso per questa avventurosa spedizione notturna che non potevo prendere sonno. Alla fine mi decisi a ripigliare il mio lavoro dentro l'armadietto. Il segnale col quale il Michelozzi mi aveva prima annunziato la sua presenza mi aveva suggerito il modo di forare senza pericolo la tela che rendeva inutile il mio osservatorio. Ma prima di accingermi a tal lavoro ho voluto allargare la buca, e adoperando con tutta la prudenza possibile lo scalpello nelle connessiture dei quattro lati di un mattone, riuscì a indebolirlo talmente che finì con lo staccarsi. Ora avevo dinnanzi a me un vero e proprio finestrino, che potevo, a mio talento, richiudere e riaprire, rimettendo o rilevando il mattone, a seconda del bisogno. Restava a bucare la tela che vi era dinnanzi. Un po' con l'unghie e un po' con lo scalpello mi misi a grattarla, riprese cadenzate, pensando. Anche se dietro sentono questo rumore, crederanno che sia un tarlo, e io potrò seguitare il mio lavoro fino a che non abbia raggiunto lo scopo. Di fatti ho seguitato a grattare finché non ho sentito, tastando col dito sulla tela, un forellino. Ma nella stanza, che era oggetto di tante faticose ricerche da parte di Maurizio del Ponte, vera buio perfetto. Allora, non essendovi per il momento altro da fare, me ne ritornai a letto, soddisfatto del mio lavoro. In verità la mia coscienza non poteva rimproverarmi di essermi abbandonato all'ozio che è il padre dei vizi, e io mi addormentai placidamente, pregustando già in sogno le grandi sorprese che mi riserva questo mio osservatorio, che mi costa tanti sudori e per il quale ho perduto tanti sogni. Non mi par vero da arrivare a stasera. E viva, e viva! Oggi a Desinare si è finalmente cambiato minestra. Abbiamo avuto un'eccellente pappa col pomodoro, alla quale le 26 bocche dei convittori del collegio Pierpaoli hanno rivolto con 26 sorrisi il più caldo e un anime saluto. Noi della società segreta ci si guardava ogni tanto con un sorriso diverso da tutti gli altri perché sapevamo il mistero di questo improvviso cambiamento. Chissà che tragedia era successa in cucina. La signora Geltrude girava attorno alla tavola con gli occhi iniettati di sangue che pareva una belba, volgendo lo sguardo qua e là sospettosamente. Per me e per Mario Micheleozzi è stata una grande soddisfazione quella di aver fatto cambiare regime ai nostri pasti e ripensando alla nostra audace spedizione di stanotte, ai pericoli affrontati con tanto sangue freddo. Mi par d'essere uno degli eroi di quelle imprese gloriose che si trovano in tutte le storie di tutti i popoli e che a farle devono essere state molto divertenti per chi le ha fatte. Quanto sono noiosa leggerle per i poveri soccolari perché devono poi imparlarle a mente con tutte le date. E alla fine dei conti non si tratta forse sia pure in un campo più ristretto delle medesime cause e dei medesimi fatti nei quali chi ha più cuore e più coraggio si sacrifica per il bene comune? Anche nelle storie delle nazioni ci sono i popoli che ogni tanto si stancano ad aver sempre minestra di riso. E allora avvengono le congiure, i complotti e saltano fuori Michelozzi e gli stoppani che affrontano i pericoli finché per la loro abnegazione non si passa alla pappa al pomodoro. Che fa se il popolo ignora chi è stato che ha fatto cambiare minestra? A noi ci basta la coscienza di aver fatto quel che abbiamo fatto per la felicità di tutti. Però gli altri soci della nostra società segreta ci hanno fatto molta festa a me e al Michelozzi per la riuscita dell'impresa e Tito Barozzo stringendoci la mano ci ha detto bravi vi nomineremo i nostri petrolieri d'onore. Intanto Maurizio del Ponte ci ha fatto una comunicazione molto importante. Ho visto la stanza sulla quale il nostro bravo stoppani ha aperto il suo finestrino che ci sarà di un'utilità incalcolabile. Ho potuto penetrarvi perché in questi giorni i muratori stanno rifacendovi un pezzo di impiantito. È la sala particolare della direzione, quella dove il signor Stanislao e la signora Geltrude ricevono le persone più intime e di riguardo. Questa stanza a destra comunica con l'ufficio di direzione e a sinistra con la camera da letto dei coniugi direttori. In quanto al quadro che impedisce al nostro stoppani di spingere lo sguardo su questa importante piazza nemica è il grande ritratto olio del professor Pierpaolo Pierpaoli, benemerito fondatore di questo collegio, zio della signora Geltrude alla quale passò in eredità. Benissimo, stasera mi godrò dunque lo spettacolo nella sala riservata di Pierpaolo Pierpaoli buonanima, dal mio palchetto su all'ultimo ordine, stando comodamente estraiato nel mio armadietto. Come vorremmo essere al tuo posto, mi hanno detto i compagni della società, uno per tutti e tutti per uno. 7 febbraio. Iersera appena i miei piccoli compagni si furono addormentati saltai su nel mio armadietto richiudendo lo sportello per di dentro e levato il mattone apri il mio finestrino, vi ficcai la testa e ci appiccicai l'occhio al buchino fatto ieri notte nella tela, in cui è figiato il compianto professor Pierpaolo Pierpaoli, che ebbe l'infelicissima idea di fondare questo odioso collegio. Da principio tutto era buio, ma poco dopo la scena si rischiarò, a un tratto e vidi comparire giù dalla porta a sinistra la signora Geltrude, impugnando un doppiere con le candele accese, seguita dal signor Stanislao che diceva con accento di preghiera, ma cara Geltrude, è certo che quest'affare del petrolio nelle balle del riso è inesplicabile. La direttrice non rispose e seguitò lentamente a camminare verso la porta di destra. Possibile che si annidi tra i collegiali un tipo così audace da compiere un fatto simile? In ogni modo farò di tutto per scoprirlo. A questo punto la signora Geltrude si fermò, si rivoltò verso il marito e con voce stridula gli disse, voi non scoprirete niente perché siete un imbecille! Ed entrò nella camera lasciando la sala del defunto Pierpaolo Pierpaoli nella più completa oscurità. La scena alla quale avevo assistito dal palchetto era stata brevissima, ma abbastanza interessante. Se non altro essa mi aveva dimostrato che l'altra notte la direttrice parlando delle patate non si era rivolta al cuoco come mi aveva fatto supporre la grande libertà di linguaggio adoperato, ma aveva parlato col direttore. La signora Geltrude quando diceva imbecille si rivolgeva proprio a suo marito in persona. Oggi è una grande giornata, è venerdì e noi della società segreta aspettiamo con ansia l'esito del nostro stratagemma per scoprire se la minestra di magro è fatta o no con la rigovernatura dei piatti.